Grazie per la presentazione, grazie per questo invito che mi ha veramente onorato. Grazie per questo, nanotecnologie per la bonifica ambientale, un rischio, un'opportunità, io provo a dare quella che è la risposta a frutto di una decina di anni di attività di ricerca, frutto di una collaborazione multidisciplinare che mi ha visto, dovrei dire per fortuna e anche a me, immerso in un mare di ecotossicologi che mi hanno un po' cambiato la vita. Il punto di vista della prospettiva, però facciamo un passo indietro, quindi prima domandiamoci perché le nanotecnologie nell'ambito della bonifica ambientale, perché il nano dovrebbe essere così affascinante, quindi perché sì? Beh, la risposta sta in questo prefisso, nel prefisso nano, perché sono nano dimensionate e il fatto di essere nano dimensionate ci porta a tutta una serie di vantaggi che sono ben noti, quello più scontato è un'elevata aria superficiale e questo comporta di conseguenza almeno due caratteristiche fondamentali, una forte prestazione assorbente dovuta all'aria e anche un'elevata attività catalitica e questo quindi comporta un'azione dei nostri nanomateriali sia in ambito fotossidativo, fotodegradativo e in generale quindi efficaci nella rimozione dei contaminanti. E in effetti ci sono diversi lavori, io faccio due esempi che non appartengono alla mia storia scientifica, uno quello standard classico delle nanoparticelle di ferro zerovalente, che è ampiamente utilizzato su diversi siti, pochissimi europei, nessuno italiano per quello che ne sappia io, utilizzato per bonifiche di acque sotterranee ma anche di suoli contaminati e qui c'è una review interessante proprio del 2023 sul trattamento di acque di scarico. E un altro giusto per fare i due estremi frutto di un'attività di ricerca molto più recente su strutture metallo organiche, i morf nanodimensionati che stanno raccogliendo sempre di più interesse nell'ambito dell'assorbimento di contaminanti per diverse matrici, compresa l'aria su cui poi si aprirebbe tutto un altro mondo, sul quale peraltro sono abbastanza ignorante per cui non lo farò. Ciò nonostante c'è un'altra faccia della medaglia, no? Perché no? Perché dovremmo limitarci dell'uso di queste nanotecnologie nell'ambito della bonifica ambientale? E la risposta è sempre la stessa, perché sono nanodimensionati. La loro dimensione che ne dà tutta questa potenzialità è anche quella che fa sollevare le maggiori perplessità. Bioaccumulo, tossicità, ecotossicità e peraltro c'è anche un elemento legato alla non conoscenza, su cui ci fermeremo parecchio in questa breve chiacchierata, sulla non conoscenza perché c'è un aspetto noto legato alla tossicità dei nanomateriali e un aspetto non noto, cioè noi non sappiamo alla fine che fine fanno, come si trasformano nella matrice ambientale, qual è il loro destino finale, si aggregano, si disperdono e questo determina tutta una serie di incertezze. Questo lo sappiamo molto bene, è interessante questo articolo apparso su The Economist, così facciamo l'unione, nel 2007, con questo titolo, questo gioco di parole è Little Risky Business, ok? Un business, un piccolo business rischioso, dove questo piccolo è riferito proprio alla nostra nanodimensione e qual è il problema da questo punto di vista? Qua diceva The Economist, nomadi, nessuno sa quanto siano sicure e troppo pochi stanno provando a scoprirlo. E questo era vero nel 2007, le cose stanno un pochettino cambiando, dobbiamo domandarci se questo cambiamento ha un aspetto positivo oppure no. Quali sono però le conseguenze nella vita reale di tutti i giorni, soprattutto nelle applicazioni anche in ambito di bonifica ambientale? La prima, la più evidente, è una perplessità, una riluttanza da parte della società civile in tutto ciò che abbia il prefisso nano. Nel nostro dipartimento noi avevamo un collega che si chiamava nano di cognome ed era frutto delle nostre persecuzioni, perché gli dicevamo sei tu il problema della chimica moderna, dei materiali moderni. Non si è più scrollato di dosso questo prefisso nano determina una diffidenza da parte della società civile, ovviamente una diffidenza anche da un punto di vista di policy e di regolatoria, con un approccio, per quello che mi è stato dato di vedere in questi anni, che si basa sul conservativo. Non sappiamo e quindi non utilizziamo, che di per sé è un approccio che non fa una piega, e penso che facendo parte noi anche della società civile lo apprezziamo parecchio. Però da un punto di vista scientifico non ci possiamo accontentare e fermare a questo. Ora, sul fatto che la tossicologia, la tossicità regata alle nanoparticelle, stia diventando sempre di più oggetto di studio e di interesse, diciamo che ormai la letteratura scientifica non lascia dubbi, questa è una finestra di circa 20 anni, dal 2000 al 2017, se cerchiamo la parola nanotoxicologi come parola chiave, vediamo che il numero di pubblicazioni sull'argomento aumentano. Se andiamo nell'ambito della bonifica ambientale, le cose sono leggermente diverse, è come se ci fossero due strade parallele, l'una che si occupa della tossicità delle nanoparticelle e l'altra che si occupa dell'utilizzo delle nanotecnologie per la bonifica ambientale. E queste due strade sembrerebbero nell'incrocio delle parole chiave non incontrarsi. Cioè se io faccio una ricerca utilizzando la parola nanoremediation, bonifica utilizzando particelle nane, vedo che i lavori aumentano, confermo che il puntatore va un pochettino per conto suo, vedo che i lavori aumentano, se provo ad incrociarla con altre parole chiave, cioè questi lavori contengono la parola chiave sostenibilità, green, sicurezza, mi accorgo che non c'è questo parallelo andamento. e quindi da questo punto che cosa tiriamo fuori? L'approccio attuale che appunto è quello conservativo, non lo sappiamo e quindi non possiamo utilizzarle, non sappiamo che implicazioni abbiano e quindi non possiamo utilizzarle, e anche un altro elemento, il fatto che non conoscendo inevitabilmente le restrizioni sono estese a tutto ciò che abbia un prefisso nano, con una percezione che apparirebbe estremamente negativa rispetto a questo prefisso. ho incominciato a lavorare su questi aspetti in un progetto finanziato dalla regione toscana circa una decina d'anni fa e la prima cosa che abbiamo capito è che quali sono le potenziali soluzioni, questo è un altro degli effetti collaterali di chi ascolta online, le potenziali soluzioni. beh, la prima è la più ovvia, abbiamo bisogno di conoscere, non possiamo limitarci a dire non lo sappiamo, il nostro sforzo, il nostro contributo deve essere quello di conoscere, di arrivare a sapere. E l'altra cosa, un inciso, per sapere servono dei protocolli di validazione e nell'ambito dell'ecotossicologia questo è un aspetto ancora più rilevante, ho scoperto, qual è il protocollo di riferimento che mi permette di dire che la mia nanoparticella è sicura e quindi la posso utilizzare, ad esempio nell'ambito ambientale. Questo protocollo che condizioni deve avere per poter essere recepito dal legislatore, cosicché sblocchi tutto ciò che pur avendo il prefisso nano, compreso il mio collega, non abbia blocco di utilizzo. E l'altra cosa è evitare generiche definizioni di rischio nel momento in cui io ho effettivamente un protocollo utilizzabile, questo problema viene superato. e così, visto che il problema sostanziale le nanoparticelle funzionano, i nanomateriali funzionano, il problema riguarda la loro sicurezza e trattandosi di trattamento di matrice ambientale, una sicurezza ambientale, ecco che ci siamo posti il problema di quale dovesse essere il ruolo degli ecotossicologi. In realtà non è che me lo sono posto io, sono gli ecotossicologi che sono venuti a dirmi guarda che non hai capito, non hai capito che hai bisogno, io sono chimico, questo si evincerà, non hai capito che tu hai bisogno di noi e ne hai bisogno con un approccio, cambiando completamente il tuo approccio. Innanzitutto c'è una parte che riguarda tutta loro, alla quale noi possiamo dare un nostro contributo, ma è quello di sviluppare protocolli di validazione, come ci siamo già detti, efficaci, riproducibili e affidabili. E la seconda è che non abbiano più nell'analisi di tutti questi aspetti che riguardano le nostre nanoparticelle, e questo è un discorso che potrebbe essere esteso per qualsiasi composto chimico, non abbiano più semplicemente il ruolo di valutatore finale. C'è lo sviluppo tecnologico, la tecnologia funziona, arriviamo alla fine e si scopre che non c'è sicurezza da un punto di vista ambientale, per cui non possono più ricoprire il ruolo semplicemente di semaforo, rosso o verde, ancora più complicato quando è giallo e quindi ti devi disdicare negli aspetti legislativi. Come risolvere quindi questo problema con una parola chiave che già nel primo intervento è stata tirata fuori, che è quella dell'ecodesign. Ecodesign che è un concetto che è già abbastanza consolidato su alcuni aspetti, coinvolge sicuramente ad esempio l'analisi del ciclo di vita, quindi l'impatto ambientale, l'LCA, coinvolge ancora molto poco tutto il mondo dell'ecotossicologia e invece nel nostro caso, in questo mondo, ci siamo avventurati. Lo abbiamo fatto partendo, visto che stiamo parlando dei nanomateriali, dai sei principi della Green Nanoscience. Sei principi della Green Nanoscience sono chiaramente estrapolati da quelli della Green Chemistry, riformulati sulla base di una tipologia di materiale particolare che è il nanomateriale. Il primo di questi principi enunciati in questo lavoro di Dahl nel 2007 è progettazione di nanomateriali più sicuri. Tutti gli altri sono abbastanza conseguenziali, con un ridotto impatto ambientale, con una riduzione dei rifiuti che vengono prodotti nella loro sintesi, un processo più sicuro, una maggiore efficienza dei materiali e ovviamente c'è il fattore energetico. Ma salta subito all'occhio che il primo nanomateriali sicuri sia l'aspetto più prioritario da mettere al primo posto nella lista dei nostri sei principi. Per decidere come procedere nella progettazione di nanomateriali che potessero essere sicuri, abbiamo, ci siamo dati delle linee guida, questo un bel po' di anni fa. E queste linee guida partono, si possono riassimere in tre semplici concetti, che sono quelli che poi abbiamo adottato. In questa storia io racconterò il mio esempio non perché mi interessi raccontarvi dei nostri materiali, ma per vedere la fatica che ci abbiamo messo dietro per raggiungere l'obiettivo finale. Mettiamola così. Allora, il primo è la corretta scelta della materia prima di partenza, da cui io vado a produrre i nostri nanomateriali. Se lo diceva, è stato detto nel primo intervento, una scelta efficace, almeno dal nostro punto di vista, che quindi non significa essere risolutiva per tutte le tipologie di approccio, è l'utilizzo come materia prima di una fonte naturale, possibilmente di scarto, perché questo ci mette in una condizione migliore da un punto di vista della sicurezza, senza, peraltro, darci alcuna garanzia. Questo è ovvio. L'altro elemento è, qui sembrerebbe quasi un po' barare, cioè uno dei problemi dei nanomateriali è la loro dimensione. Allora proviamo a spostarci da un concetto di nanodimensione a un concetto di nanostrutturazione, dove il mio nanomateriale è il mio mattone, il mio building block, per costruire di qualche cosa di macrostrutturato, che avrà una sua micro- e nanoporosità, e in cui le componenti che costituiscono il mio macro-oggetto, saldamente legate l'uno all'altro, siano derivate da nanomateriali. Quindi io scendo nella nanodimensione per poi ricostruire un macro-oggetto. L'ultimo punto è quello che vi ho già spoilerato, l'eco-design, fare in modo che lo studio ecotossicologico entri in laboratorio nella fase di progettazione del materiale. Te lo faccia cambiare quando ancora dal laboratorio devo uscire, in modo tale da uscire dal laboratorio già con una validazione sulla sicurezza del materiale stesso. Per quanto riguarda la scelta del materiale, noi abbiamo scelto la cellulosa, che è il biopolimero più abbondante sulla crosta terrestre, può essere ottenuta da fonti vergini. Noi abbiamo lavorato molto sulle fonti di scarto, che possono essere agricole, alimentare, ma anche abbiamo avuto partner nei nostri progetti, cartiere, e quindi tutto ciò che è definitivamente scarto anche in un processo carteario, anche dopo il riciclo. E perché per noi comunque questa materia prima di scarto è importante? Perché dalla cellulosa, che ha questa, probabilmente tutti voi lo sappiamo, ma la fibra, lo sapete, ma la fibra di cellulosa ha una struttura gerarchica. Ogni fibra è costituita da microfibre, ogni microfibra è costituita da nanofibre. E quindi con i più svariati processi, meccanici, chimici, enzimatici, è possibile rompere la struttura gerarchica della cellulosa fino ad ottenere singole nanofibre o nanocristalli di cellulosa. Quindi andiamo proprio a aprire la nostra fibra. Otteniamo la nanocellulosa, sulla nanocellulosa c'è un mondo di applicazioni a 360 gradi. Perché? Perché ha un sacco di caratteristiche, ha un'elevata forza meccanica, resistenza meccanica, è altamente biodegradabile, è cellulosa, ha un'elevata aria superficiale, è nanodimensionata, e può essere funzionalizzata chimicamente. E quindi qua rientro in gioco io e mi diverto ad attaccarci un po' a tutto quello che mi interessa in funzione delle diverse funzionalità che ci interessano. E anche qui, sempre volendo giocare sulle parole chiave, la parola chiave nanocellulosa nella produzione scientifica sta attirando tantissima attenzione, anche alcuni warning. Noi in realtà abbiamo già molto a che fare con la nanocellulosa in tantissimi campi di applicazione, anche all'interno delle automobili, nella cosmesi. Io ho la fortuna di collaborare su alcuni, di lavorare su alcuni di questi ambiti dell'applicazione della nanocellulosa sempre in collaborazione con altri, con colleghi o del dipartimento o di altri dipartimenti. Direi che è una cosa che appare ormai al giorno d'oggi estremamente evidente è che la nostra attività è sempre più multidisciplinare. Il chimico da solo non va molto distante, ha bisogno di collaborazioni a 360 gradi e competenze di esperti a 360 gradi. Per non parlare del mondo analitico. Quanta sofferenza sul mondo analitico quando ci si punta a determinati contaminanti. Ora, la nanocellulosa di per sé non è che perché deriva dalla cellulosa allora significa che è il materiale più sicuro di questo mondo. È un oggetto che va studiato come tutti i nanooggetti e questo lo stiamo facendo. Ci sono già dei lavori in letteratura più che altro associati a studi tossicologici per tutto ciò che riguarda l'utilizzo umano. Uno dei campi di applicazione della nanocellulosa è nell'ambito del packaging. noi sappiamo che l'EFSA sta attivando dei tavoli di lavoro per valutare la sicurezza dell'utilizzo di questo derivato che ha l'obiettivo di sostituire addettivi plastici per cui benemerita l'iniziativa ma come ogni cosa va studiata e in collaborazione con la professoressa Laria Corsi dell'Università di Siena siamo proprio investigando la potenziale tossicità della nanocellulosa cioè questo lavoro in cui il nostro ruolo è stato quello di funzionalizzarla con dei fluorofori per poterla tracciare negli acquari dei dei laboratori di Siena e verificarne il biaccumulo e poi andare a verificare gli eventuali effetti collaterali che ha in particolare su una particolare famiglia di molluschi marini abbiamo avuto risultati contrastanti in cui sostanzialmente si evidenzia che c'è un effetto prettamente meccanico di tossicità soprattutto sulle branchie di questi molluschi e di contro non abbiamo alcun effetto sull'aumento dello stress ossidativo ok quindi sembrerebbe una tossicità acuta poi bisognerebbe indagare quella cronica legata esclusivamente all'aspetto meccanico alla nanodimensione e non a tutto ciò che questo comporta però noi abbiamo il secondo passaggio della nostra linea guida che è quello di fare una strutturazione del nostro materiale ok abbiamo preso le nanofibre le abbiamo reticolate come vi dico come soltanto perché intanto le nanofibre le otteniamo con un metodo ossidativo e questo nel nostro processo è l'unico passaggio chimico noi otteniamo un metodo ossidativo obblichiamo un metodo ossidativo convertiamo alcuni gruppi alcolici in posizione C6 dell'anello glucopiranosico in gruppi carbossilici e poi giochiamo sul pH quando andiamo a questo un piccolo sfizio perché è divertente quando lo vediamo quando andiamo a lavorare in ambiente basico deprotoniamo questi gruppi carbossilici si generano repulsioni elettrostatiche tra le singole fibre che tendono a separarsi basta un'azione meccanica un omogenizzatore e le fibre si separano tra di loro perché si respingono per repulsione elettrostatica questo per ottenere le singole nanofibre una volta che ce l'abbiamo questo gruppo carbossilico lo sfruttiamo per reticolare le nanofibre di cellulosa e noi utilizziamo dei polimeri poliamminici questa qua è una polietilinimmina che è utilizzata molto anche noi come nascono a volte le attività in laboratorio è utilizzato molto come vettore non virale in ambito della trasfezione genica e quindi noi ne avevamo diverse quantità e l'abbiamo utilizzato per questo scopo trattamento termico e abbiamo una reticolazione ok questo era il nostro materiale di partenza da questo siamo partiti con questo materiale abbiamo contratto il gruppo di ecotossicologi quindi la nostra sintesi è questa un trattamento termico ci porta alla formazione di legami ammidici per cui il sistema è sufficientemente stabile stiamo facendo legami covalenti abbiamo fatto delle misure di tossicità dei test algali e abbiamo visto che il nostro materiale non era così safe ok quello che andiamo a fare è valutare l'acqua post trattamento ok noi eliminiamo i contaminanti che vogliamo eliminare e questo ci riesce però facciamo poi un test sull'acqua post trattamento e verifichiamo se questa ha effetto tossico e per eliminare l'effetto tossico sostanzialmente dobbiamo andare a diluizioni e quindi vuol dire che il nostro materiale qualche problema ce l'ha anche se il contaminante l'ha assorbito abbiamo un pochettino indagato e abbiamo scoperto che il problema era il reticolante quello che noi utilizzavamo come reticolante il nostro polimero poliamminico che veniva in pochissime quantità rilasciate nell'ambiente abbiamo fatto anche uno studio LCA e questo poi farò una piccola parentesi su questo e abbiamo visto che anche da un punto di vista di impatto ambientale la produzione delle fibre non è un problema la produzione del materiale nanostrutturato invece ha importanti impatti praticamente su quasi tutte su quasi tutte le voci e allora ci siamo messi a riprogettare il materiale hanno detto così non va ci hanno detto perché non andava e allora abbiamo fatto un paio di modifiche intanto vedete la formulazione iniziale polietilienimina e fibre di cellulosa 2 a 1 abbiamo fatto due semplici modifiche la prima è stata aggiungere acido citrico che non rappresenta un problema da un punto di vista di tossicità e l'acido citrico aveva la funzione di bloccare meglio il nostro reticolante all'interno della struttura come se avessimo introdotto ulteriori lucchetti all'interno della struttura e inoltre abbiamo questo ci ha permesso di diminuire in modo significativo la quantità di reticolante di mezzare la quantità di reticolante che utilizzavamo fatto questi due interventi intanto vi faccio notare che passiamo da una situazione in cui abbiamo dei nano oggetti che fluttano in soluzione a una situazione in cui abbiamo una nanostrutturazione un materiale micro e nanoporoso fatta questa modifica il materiale non risulta più tossico ok in realtà per completare il processo lo abbiamo ripreso tutto quanto abbiamo detto dov'è che possiamo intervenire anche da un punto di vista di impatto ambientale e abbiamo fatto diversi interventi il primo è stato appunto diminuire la quantità di reticolante bloccandolo con acido citrico ok il secondo il materiale richiede ovviamente un processo di purificazione finale che noi facevamo in metanolo a riflusso siamo riusciti a ottimizzare il processo e siamo passati ad acqua a temperatura ambiente il terzo è stato sul processo di sintesi delle nanofibre con la possibilità di riciclare il catalizzatore e quindi poter fare un processo in continuo la somma di tutti questi interventi ci ha portato una sensibile diminuzione di tutti i parametri di impatto ambientale nel nostro ciclo questo in collaborazione con Erco che era uno dei partner del progetto Nanobond però quanto è stato difficile applicare l'LCA su scala di laboratorio e quanto è ragionevole applicare l'LCA su scala di laboratorio io voglio fare un ecodesign quanto è credibile l'output che viene fuori abbiamo bisogno di una serie di informazioni che possiamo estrappolare soltanto in questo lavoro abbiamo fatto delle simulazioni di scale up per cercare di avere dei valori ragionevoli per cui da questo punto di vista mi permetto di fare pubblicità a un qualche cosa che non mi vede coinvolto ma che è stato sviluppato dalla professoressa Elsa Bontempi dell'Università di Prescia che è un metodo semplificato da utilizzare su scala di laboratorio e che prevede un confronto cioè per poter fare una valutazione di impatto del mio materiale io lo confronto con un altro di riferimento voglio dire che è più sostenibile e mettiamolo a confronto banalmente con il suo partner commerciale in utilizzo attualmente e vediamo se tutti i claims che fai in questo lavoro estremamente interessante che fortunatamente non coinvolge il mio materiale quindi io ne esco in dolore ha preso una cinquantina di prodotti in letteratura li ha confrontati con prodotti commerciali di riferimento e ha incominciato a valutare due parametri l'impronta CO2 e il consumo energetico due parametri solo con il principio che sono su scala di laboratorio è inutile che mi tiro fuori parametri più sofisticati perché saranno stime che poi in fase di scale up dovrò comunque completamente rivalutare poi c'è una LCA semplificata quando vado su pilota diciamo così e poi quando sono su full scale allora sì che ha senso applicare l'LCA questo è un modello che suggerisco perché aiuta nell'ecodesign aiuta nell'ecodesign ok questo è il risultato noi otteniamo questi materiali nanostrutturati li abbiamo testati sono safe sono validati e funzionano questo solo per farvi vedere che funzionano molto bene nell'assorbimento di metalli una cosa che è stata divertente per noi è stato constatare che funzionano ancora meglio in acqua salata che non in acqua dolce e quindi non funzionano come resine semplice resine a scambio ionico perché noi abbiamo preparato l'acqua di mare sintetica e abbiamo testato con mano la quantità di sodio e di potassio e di calcio che c'è lì dentro e abbiamo fatto anche trattamenti di reflui di aziende tessili di acque di scarico di aziende tessili per l'assorbimento di contaminanti e poi come vi dicevo ci siamo divertiti anche alla funzionalizzazione per cui questi stessi materiali possono funzionare anche come sensori stiamo continuando a lavorare su questo qual è il risultato dell'output che voglio dare in questa chiacchierata il risultato è che non possiamo rispondere in modo univoco alla domanda se i nanomateriali sono un rischio o un'opportunità nell'ambito della bonifica ambientale dobbiamo prendere una soluzione e un'idea direi ancora prima di una soluzione e svilupparla con il principio dell'ecodesign che prevede l'applicazione dei principi della green nanoscience fin dalla fase di sintesi ovviamente la valutazione che siano efficaci in quello per cui sono stati progettati cioè nella decontaminazione dopodiché impatto ecotossicologico e qua al bivio se ho semaforo verde continuo se ho semaforo rosso ritorno alla progettazione iniziale ancora lì su scala di laboratorio quindi è un lavoro più frustrante se volete per il chimico perché ho costantemente sottovalutazione ma poi sai che il risultato finale è pronto per una produzione un'applicazione abbiamo fatto applicazioni in situ di questo materiale e l'altra cosa per noi interessante è che sono materiali rigenerabili e riciclabili e quindi questo chiuderebbe un pochettino il cerchio per cui si possono riutilizzare n volte è un'attività di ricerca che continua questo è un lavoro in cui abbiamo associato questi materiali al the watering ok in cui praticamente abbiamo inserito il nostro materiale in geotubi in cui vengono pompati sedimenti per la loro disidratazione e questi una volta che noi movimentiamo fuori dal bacino acquoso questi sedimenti l'80% è acqua quell'acqua non può essere più rimessa nel bacino da cui è stata estratta rappresenta un rifiuto anche lei e questo è un problema perché stiamo parlando di quadruplicare i volumi da smaltire in questo modo il nostro obiettivo è che il geotessile funzioni proprio da un mini depuratore per cui l'acqua in uscita sia considerata non safe sicura e quindi possa essere rimessa nel bacino e la cosa ha funzionato anche con una analisi di arpa toscana e questo invece è un altro lavoro sempre per raccontare che il nostro ecodesign continua in funzione delle matrici che andiamo a studiare il condizionamento del nostro materiale è un aspetto fondamentale per poterlo utilizzare in modo sicuro questi materiali sono coinvolti in altri progetti in questo periodo uno è Return che è un partenariato esteso del PNRR in cui noi siamo una sub 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 unità in tutte le articolazioni che hanno questi progetti e ci occupiamo dell'assorbimento di contaminanti emergenti qua è saltata un pochettino la grafica comunque ci sono anche due progetti in corso uno è Safe Crew sul trattamento di acqua potabile con l'obiettivo di rimuovere il materiale organico prima del processo di disinfezione per ridurre i sottoprodotti e l'altro è un progetto che è partito il primo di ottobre sul trattamento la rimozione di Pifas da reflui di aziende tessili per cui sempre giocando sul fatto che essendo materiali organici possiamo giocare abbastanza per funzionalizzarli ho concluso questo è il team con cui lavoro in particolare la professoressa Antonelli che mi ha coinvolto nei due progetti europei di qui sopra del dipartimento di ingegneria civile e ambientale del Politecnico la professoressa Ilaria Corsi che è l'ecotossicologa con cui ho mai collaboro da dieci anni e mi ha insegnato un sacco di cose davvero le sono grate i finanziamenti e sono a disposizione per domande di un'ecotossicologa di un'ecotossicologa Grazie a tutti